Questo è un limoncello di Massimo Cucco, Don Cucco e ce l'abbiamo qui disponibile, eccoli qua. Signori e signori, abbiamo qui direttamente da Porto del Carlo, Don Cucco. Che pasta? Incredibile, non ci posso credere. Qui ci vengono a mangiare. Qua c'è scritto, limoncello del Lanzarote. E questa è la parola, guardala, questa è la parola gratuita che attira. Dammi un pennarello. Metti quasi gratuito. Non un pennarello. Stiamo scomprando, sbampo. Questa? Voglio comprare la città che c'è in un'azienda, la tua città va a... La sede commerciale? Pagale? Pagale dentro. Va bene, abbiamo le bottigine piccoline. Quattro euro. Chi ci sta dai? No, 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 io non voglio andare a fare. Ora viene... Viene a vendere il licorio. Ora viene il mio canale. Non c'è di se ne no, eh? Non c'è di se ne no, eh? Con un po' delle limoncello. Si, se le t'interessa... Ah, ecco qua, guarda che sto riprendendo uno scoop incredibile. La torta... Con... Guarda, lì va che roba. Il limoncello sopra c'è di... Il limoncello d'un cucco è anche ottimo come condimento per dolci. E tu... Gelati. Gelati? Gelati. Gelato la crema. Ma a me sembra sempre sprecare un limoncello a metterlo così. No, no. E' più bello berselo così. Ciao, grazie. Su, su, su. Berlo così invece è più... Dov'è? Ho messo in un sacchetto... Dov'è, dov'è? Cosa, cosa? Che è successo? Lo spar. Perché ho col... Lo spar? Cosa stai dicendo? Cosa stai... Mi sto stupo, eh? Lo spar. Vengo lì? Ah, cosa? Figlio qua, guarda che un coltello io. Mi tratta male. Lo vuoi vedere? Vediamo il coltello. Questo è utilissimo. Questo per... Esatto. Per il limoncello è utile. Esatto. Avete assaggiato il ciupitino? Adesso vi comprate una bottiglia. Se no... Se no... No, no. Vi ha un dito. Vieni a provarlo? Vado a restituire... Ok? Solo l'acqua. L'acqua. Stavamo dicendo che il coltello serve perché quando uno prova il ciupito deve comprare la bottiglia. Chiaro. Se no... Hanno acceso le lucine. Va che bello adesso? Che sembra Natale? Vara. Bello. Non c'è la luce dentro. C'è, ma è girato in basso. Ah. Come girarla più in basso. Ah. Se ti metti sulle spalle... Sta per succedere qualcosa di incredibile. Noi. Attenzione. Attenzione. Lo facciamo. Facciamolo. Però... Lei deve continuare a filmare. Sì. 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 Alla favore da. No, non NORM... Sì. Non cambierà. Hanno. Sì. grazie